Grazie a Banca di Bologna, siamo qui nella loro sede centrale, il cuore di Bologna, siamo con il direttore generale Alberto Ferrari che ringraziamo. Allora 2021 sta arrivando alla fine quest'anno, dati molto contrastanti probabilmente sul piano economico, sociale, però sta finendo anche questo 2021. Allora intanto diciamo qual è un po' la sua idea di quest'anno? Allora diciamo che in generale sicuramente è stato un anno complicato, sicuramente fino al primo trimestre dove ovviamente non si capiva bene ancora come ripartiva e se ripartiva, poi in realtà è stato un anno migliore rispetto alle attese, direi per quasi tutti i settori, anche quelli più colpiti hanno avuto modo di recuperare molto bene nella parte diciamo estiva e adesso ovviamente cercheremo di capire prossimamente come andrà, però insomma diciamo che il 2021 a livello complessivo si è crusso molto meglio delle aspettative, insomma e anche per noi oggettivamente è stato il miglior anno di sempre, insomma quindi questo è stato importante. Imprese e famiglie come si sono comportate quindi questo 2021 dove tra l'altro ricordiamo molti hanno dovuto ricominciare a pagare comunque come di rate, finanziamenti, sì. Sì, noi abbiamo avuto come poi abbiamo detto in passato fino a un massimo del 25% degli affidamenti in moratoria, quindi complessivo è stato un picco molto importante fino a giugno del 2021. Poi progressivamente ad oggi praticamente questa percentuale si è ridotta a un 5%, quindi praticamente famiglie e imprese hanno ripreso normalmente a rimborsare i finanziamenti, salvo queste eccezioni che rimangono in quei numeri lì, insomma, quindi molto bene la ripartenza. Numeri positivi per la banca, diceva il direttore, sì? Sì, è stato il miglior anno della storia dopo un 2020 che comunque era andato meglio sopra le attese e quest'anno chiuderemo sicuramente il miglior anno della banca con trend di crescita del 15-20%, raddoppieremo l'utile, faremo bilanci come sempre molto prudenti, anticiperemo quello che si chiama calendar provisioning, cioè le regole di accantonamento per BCE sul credito deteriorato, anticipiamo praticamente al 21 i due anni successivi, quindi anche il 22 e il 23. Questo perché ce lo possiamo permettere, abbiamo fatto un anno veramente molto buono e quindi vogliamo fare un bilancio ancora più prudente con un credito netto deteriorato che scende sotto l'1%, quindi è un dato molto buono. La banca, la banca del territorio, la banca locale è un tema che riprendiamo sempre perché in questo periodo ha sempre di più fatto la differenza cioè il rapporto tra virgolette quasi personale con un direttore, con un personale di filiale, con un funzionario, è stato vincente in questi due anni? Sì, è stato secondo me quello che ha fatto la differenza, hanno fatto la differenza le persone che lavorano per noi e che hanno lavorato secondo me con un grande spirito di abnegazione, di impegno, non si sono nascoste nei momenti difficili, insomma questo sicuramente penso che sia poi il motivo dei risultati che stiamo vedendo nel 21 perché vuol dire che in questi due anni complicati abbiamo assistito bene alla clientela, ci siamo stati vicini e penso che questo sia anche un riconoscimento di questo lavoro, insomma perché comunque oggi stiamo acquisendo quote di mercato importante principalmente dai grandi gruppi che forse sono stati un po' più distanti. Allora oltre a chiedervi le moratorie, adesso però come giustamente ci ricordavo, insomma le persone stanno ricominciate a pagare in maniera regolare, però diciamo le imprese e le famiglie cosa chiedono a una banca, cosa vogliono da una banca, quali sono un po' in questo momento anche le situazioni, nel senso anche più consulenza, più aiuto a capire, anche abbiamo capito e scoperto che nei conti correnti in realtà le liquidità, cioè molti hanno ottenuto i soldi di fatto non sotto il materasso fortunatamente ma in conto corrente, quindi cosa chiedono? Che rendano, che non rendano, di essere sicuri che siate solidissimi? Io penso, è chiaro esattamente come stiamo dicendo, è stato un anno dove il tasso di risparmio anche perché le persone hanno speso meno, hanno fatto fatica a spendere e quindi è cresciuto anche per questo motivo, ma io penso che nei momenti più complessi, complicati le persone abbiano bisogno di punti di riferimento e oggi se tu sei un punto di riferimento, sei stato in grado di esserlo soprattutto nei momenti complicati, ti viene riconosciuto proprio con un rapporto che va oltre un aspetto meramente economico, poi è ovvio che il mondo imprese è sicuramente più sensibile di un privato, magari alla parte prezzo, finanziamento, il privato magari è più attento alla relazione, ma io dico sempre che anche dietro un'impresa poi c'è comunque una persona, un imprenditore e quindi in realtà penso che proprio quello che fa la differenza è stato e sarà per fortuna quello di essere poi dei punti di riferimento che danno le risposte, perché poi le risposte possono essere positive, meno positive, però devi dare le risposte in tempi veloci e brevi perché oggi è l'altro aspetto importante, cioè dare delle risposte in tempi veloci. Banca di Bologna è una banca molto vivace anche sul territorio, nel senso che sul sociale vi siete molto impegnati anche nel 2021 a sostenere tante associazioni e realtà di questo territorio, avete lavorato molto anche con le scuole, quindi proprio anche sostenendo concretamente questi, quindi questo è un aspetto su cui la banca vuole in qualche modo fare la sua parte? Sì, penso sia uno dei motivi per i quali esiste una realtà, una banca che sta su un territorio e sceglie di stare su un territorio anche abbastanza ristretto da un punto di vista proprio geografico, cioè il fatto di essere una realtà importante su un territorio anche abbastanza ristretto è per conoscere bene quel territorio, capirne le esigenze e restituire a quel territorio che ti ha fatto comunque fare dei buoni risultati, è giusto, penso sia giusto ridare sul territorio una buona parte degli utili o dei risultati che tu fai, insomma penso che da privato, cittadino, da impresa, penso che lavorare in un contesto che funziona bene ed è bello il quale vivere, penso sia un buon obiettivo di tutti, insomma noi abbiamo per fortuna dei numeri anche molto buoni, abbiamo già un patrimonio molto alto, l'abbiamo detto più volte, una solidità elevata, quindi possiamo distribuire anche sul territorio cifre importanti, insomma perché negli ultimi due anni abbiamo superato il milione di euro, insomma in tutte queste iniziative. Ferrari, 2022, la domanda più difficile, come sarà questo 2022? Allora il 2022 parte sicuramente con una situazione che come vediamo e come sappiamo torna a essere un po' incerta e complicata, il 2021 e il 2021 si è chiuso con un anno record anche per il PIL italiano, penso che arriveremo vicino al 7% di crescita che non si vedeva neanche dagli anni 60, il 2022 aveva dei buoni presupposti, aveva dei buoni presupposti nel settore manifatturiero e non solo, c'è tutta l'incognita del costo dell'energia, dell'inflazione, delle materie prime, quello oggettivamente è un tema complicato ormai da diversi mesi, penso che il 2022 sarà più volatile e più complicato del 2021, sicuramente nella prima parte dell'anno, però io sono convinto che sarà anche il 2022 un anno positivo nell'insieme, poi speriamo che non soffrano tanto quei settori che purtroppo sono sempre quelli che possono essere impattati sempre da queste situazioni di pandemia che purtroppo hanno solo una risoluzione che è quella dei vaccini, noi siamo messi sicuramente meglio di altri in Europa, ma dobbiamo continuare a lavorare così. Direttore Ferrari, grazie, buon 2022, c'è anche un'attenzione, apro una parentesi anche sull'arte, siete già pronti a gennaio a partire? Siamo a Ponti, sì, facciamo penso un bel evento legato a Dark City, quest'anno lo facciamo anche in partnership con il Mambo di Bologna, quindi siamo molto contenti di questa cosa e poi magari a metà gennaio ne parleremo, insomma. Assolutamente sì, grazie davvero e buon anno Alberto Ferrari, grazie a voi e buon anno a tutti, grazie. Grazie a tutti.